Buonasera gentili telespettatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con TVRS. Apriamo con la pagina della cronaca e la notizia di un tragico incidente stradale mortale avvenuto stamane attorno alle 11 lungo la statale adriatica tra Porto Recanate e Loreto all'altezza di Villa Musone. Per causa in corso di accertamento da parte della Polstrada e dei Carabinieri c'è stato un violento impatto tra una moto ed una vettura, con quest'ultima che dopo lo schianto è finita di traverso lungo la carreggiata coinvolgendo altre due auto. Ad avere la peggia è stato il centauro Antonio Cariello, 35 anni, agente di polizia penitenziaria, residente a Camerano. Due coniugi di 87 e 90 anni sono invece stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Torrette. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in mare a Senigallia nella prima mattinata di oggi. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 7 da alcuni pescatori che tornavano nell'area portuale. Immediatamente è intervenuto il personale della guardia costiera. La vittima è un senigalliese di 85 anni, identificato grazie ai documenti personali che aveva con sé. Il cadavere dell'anziano è stato recuperato nell'avamporto, oltre la darsena turistica dai vigili del fuoco, insieme al personale della Società Nazionale di Salvamento. Ignote ancora le cause del decesso. L'uomo è caduto in mare con i vestiti, forse a causa di un malore accusato mentre passeggiava. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale per verificare che non ci siano segni di violenza sul corpo. Ed un altro decesso è avvenuto a loro Piceno, dove un ottantenne è morto dopo essere caduto dall'altezza di circa due metri, mentre stava eseguendo dei lavori sul tetto di un pollaio in via Kennedy, nei pressi della sua abitazione. Gli operatori dell'emergenza si sono immediatamente recati sul posto, allertando anche l'eleambulanza, ma al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. E cambiamo per un attimo argomento. Si contano davvero sulle dita di una mano coloro che tra il personale scolastico si sono presentati privi di Green Pass, in attesa della data fatidica del 15 settembre. Vediamo. Si contano al massimo sulle dita di una mano i casi di personale scolastico, docenti o ATA che si sono presentati sprovvisti di Green Pass negli istituti scolastici delle Marche. Lo ha detto il direttore dell'ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti dopo le notizie di tre insegnanti a Pesaro e Fano e un insegnante ed un collaboratore scolastico lasciati fuori dalle scuole per mancanza della certificazione verde. Al momento il personale tornato negli istituti è molto poco, aggiunge, saremo a pieno carico il 15 settembre con la ripresa dell'attività didattica. In quel caso avremo il clu di presenze anche con gli studenti. Ma Filisetti non prevede grandi problemi almeno per il personale scolastico, ricordando che nelle Marche al 9 agosto l'88% risultava immunizzato con due dosi di vaccino e quasi il 96% aveva ricevuto la prima dose. Fa notare che il Green Pass si può avere anche con un tampone di quelli riconosciuti dalle autorità sanitarie. Se a questo aggiungiamo gli esentati per motivi di salute non resta fuori nessuno. Con la preside di un istituto di Osimo al centro di varie polemiche per alcune esternazioni su una chat privata in cui parlava di disobbedienza civile c'è stato un chiarimento. L'importante, ha ribadito Filisetti, secondo le norme attuali essere muniti di Green Pass con la vaccinazione effettuata o con il tampone negativo. Nessun problema neppure per i controlli. Aspettiamo la app ma abbiamo abbastanza personale per fare anche quelli. I problemi della scuola, conclude, sono altri come la coerenza della formazione con le esigenze del territorio. Ancora brevi di cronaca, la sezione catturandi della squadra mobile di Ascoli già da qualche giorno era sulle tracce di un cittadino italiano di origine tunisina, 55enne, su cui pendeva un ordine di arresto. Il ricercato dal 2010 ad oggi è risultato destinatario di una serie di condanne per reati che vanno dallo spaccio di droga alle lesioni dolose, alla ricettazione fino alla resistenza pubblico ufficiale. È stato rintracciato ed arrestato a Porto d'Ascoli e successivamente condotto presso il carcere di Marino del Tronto, dove dovrà scontare una pena di quasi sei anni e pagare una multa di oltre 16 mila euro. Ed un magrebino, trentenne, clandestino nel nostro paese ed autore di numerosi furti in abitazioni di Emilia Romagna e Marche, con particolare accanimento nella zona di Porto Sant'Elpidio, è stato fermato nella cittadina rivierasca nella zona di Piazza Fratelli d'Angelo. La perquisizione tra l'altro ha portato al rinvenimento di una cacciavite e di un coltello a scatto potenzialmente utilizzabili anche per forzare le portiere di vetture e minacciare le vittime, l'ultima delle quali una turista torinese in vacanza sulla costa fermana. L'uomo è stato trasferito dalla Polizia di Stato in un centro di permanenza del Nord Italia e da lì avviate le procedure per il rimpatrio. E Pesaro ha festeggiato ieri 77 anni dalla liberazione dall'occupazione nazifascista. Vediamo. Pesaro ha celebrato ieri 77 anni dalla liberazione. Una grande festa del ringraziamento l'ha definita il sindaco Matteo Ricci, il cui pensiero è andato a chi ci ha consentito di crescere e vivere in libertà. La nostra gente è stata forgiata da quanto successo, non è un caso che nel nostro territorio i valori della resistenza hanno contraddistinto la storia democratica della nostra provincia. Un valore che ogni anno va rinnovato attraverso la memoria, un lavoro che Ampi porta avanti raccontando storie che per anni sono rimaste nascoste. Durante la cerimonia il sindaco ha ricordato come Pesaro sia stata una delle città più colpite durante la Seconda Guerra Mondiale. L'80% del territorio è stato bombardato. Il risultato è stato un deserto di macerie dalle quali ricostruire. Una storia molto attuale. Gli avvenimenti internazionali degli ultimi giorni ci dimostrano che le forze alleate da sole non bastano. Oggi l'accoglienza, riferendosi all'Afghanistan, è un dovere per l'Occidente e per l'Italia. È un dovere nei confronti di quei popoli e dei militari che sono morti per garantire democrazia e diritti. Ora, ha insistito, i valori della democrazia e della libertà stridono con alcuni slogan che sentiamo in questi giorni in piazze, per fortuna, sempre più vuote. Brividi e rabbia quando sento parlare di dittatura sanitaria significa insultare coloro che si sono battuti con la vera dittatura. In questa pandemia sono stati presi provvedimenti in maniera democratica da istituzioni elette dai cittadini. Paragonare lo sterminio di popoli con l'esigenza di sconfiggere un virus, ha attaccato, è vergognoso nei confronti di chi ha combattuto per la libertà e per l'uguaglianza, valori che vanno difesi e rinnovati quotidianamente. Bisogna avere più rispetto per queste parole. Ed eccoci ora al consueto aggiornamento quotidiano sulla pandemia. Sono 172 nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione ed ancora una volta la provincia di Macerata, quella con il più alto numero di contagiati, ben 68, quasi il 40% del totale. A seguire Ascoli Piceno con 28, Pesaro Urbino con 26, Ancona con 22 e Fermo con 15. Il tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti è sostanzialmente stabile a 74,26, mentre la percentuale di positività è all'11,3%. C'è purtroppo da registrare un nuovo decesso. Si tratta di una san benedetese di 75 anni con patologie pregresse. I ricoverati complessivi sono attualmente 79, di cui 20 nelle terapie intensive. Il tenente colonnello Fabrizio Marchetti, originario di Gubbio, 50 anni, è il nuovo comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, in sostituzione di Francesco Salvo, che si accinge ad assumere un nuovo prestigioso incarico presso il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, salvo nei cinque anni di servizio nel capologo d'Orico, ha coordinato tra l'altro numerose importanti indagini delegate dalla Procura della Repubblica in materia di frodi fiscali, di repressione e contrasto dei traffici illeciti nel porto di Ancona. Marchetti invece ha maturato esperienze in vari ambiti a Castrovillari, Terni e L'Aquila. Il gruppo coordina l'attività della compagnia alla sede, di quella del pronto impiego delle compagnie di Iesi e Falconare e delle tenenze di Fabriano, Osimo e Senigallia. L'impianto produttivo dell'Antonio Merloni di Matelica rinasce dopo il sisma che ha causato gravi danni, in particolare ad uno dei capannoni produttivi. Ieri c'è stata una visita del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, accompagnato dall'assessore regionale Guido Castelli, una struttura di 17 mila metri quadrati che dà lavoro a 200 persone. Al CIBUS, in corso di svolgimento a Parma, si è parlato anche di distretto biologico unico delle Marche, con numeri davvero ragguardevoli. Sentiamo Manolita Scocco. La Regione e la Camera di Commercio Unica delle Marche stanno partecipando alla Fiera di Parma, il CIBUS, Salone Internazionale dell'Alimentazione, che si conclude oggi con un proprio stand, visitato tra l'altro anche dal Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, in affiancamento a 25 aziende marchigiane presenti. Il Vicepresidente Carloni, il Presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini e il Presidente dell'Azienda Camerale Speciale per l'Agroalimentari Linfa, Simone Mariani, hanno visitato gli stand di alcune delle aziende marchigiane presenti al CIBUS e contestualmente l'assessore Carloni ha annunciato con soddisfazione la continua e convinta adesione delle aziende marchigiane al distretto biologico unico delle Marche. Ad oggi sono state superate, posso dare questa notizia, duemila imprese hanno aderito al distretto del biologico liberamente e quindi abbiamo ampiamente superato i requisiti che servivano per poterlo costituire e nelle prossime settimane andremo alla costituzione del distretto per farlo diventare un grande elemento di qualificazione, di programmazione, di strategia per dare ai nostri agricoltori la forza per entrare sui mercati con un valore aggiunto alto e fare in modo che i nostri prodotti quando hanno a fianco la parola Marche valgano di più perché i nostri produttori e i nostri territori sono territori credibili dove si fa in modo sostenibile l'agricoltura, dove si produce cibo in modo sano. L'obiettivo è quello di fare nelle Marche il più grande distretto del biologico d'Italia ed Europa, per questo è stato anche previsto un bando ad hoc aperto dopo la firma del patto tra lo stesso Vicepresidente Carloni e i rappresentanti regionali di AGC, col diretti, CIA, Confagricoltura, Confcooperative, Copagri, Lega Coppe, UE Coppe, Unci e Camera di Commercio. Sarà all'insegna della sicurezza e della tradizione l'edizione 2021 della Fiera di San Nicola, una delle manifestazioni più antiche della costa adriatica che torna ad animare il lungomare di Pesaro per tre giorni dal 10 al 12 settembre dopo un anno di stop. In linea con le normative nazionali l'accesso alla fiera sarà consentito solo con il Green Pass che sarà verificato con doppi controlli a campione ai varchi d'accesso e all'interno nelle vie della fiera. Saranno 400 i banchi di operatori provenienti da tutta Italia. E siamo ora alla pagina sportiva che apriamo con il calcio, con la sosta dei massimi campionati per gli impegni delle nazionali, riflettori puntati sulla Serie C che disputerà domenica la seconda giornata. Ad aprire il programma sarà l'Ancona Matelica che alle 15 al Del Conero ospiterà l'Olbia per un confronto che torna dopo ben 45 anni. È un'occasione importante per i biancorossi contro una compagine giovane come quella sarda ma che ha convinto all'esordio. Nel 4-3-3 di Colavito spazia Moretti del Sole e Sereni in attacco con Rolfini pronto a subentrare. Tra i pali appare certa la conferma di Vitali con Avella in panchina. Alle 17.30 invece in campo la Fermana e la Vispesaro. I canarini dopo il rocambolesco 3-3 con la Viterbese saranno a Gubbio in un test indicativo anche per la possibile presenza dei nuovi acquisti di coloro cioè che sono stati ingaggiati proprio nelle ultime ore di mercato. Per i Vissini appuntamento al Benelli contro il Pontedera per cercare il riscatto anche a livello di prestazione dopo il pesante cappò di Siena. Mentre ancora sono in bilico le vicende della San Benedettese partono in questo fine settimana le competizioni ufficiali dei dilettanti con le coppe di eccellenza e promozione. Nel primo caso avremo Gallo Urbino, anticipo al sabato, Biagionazzaro Fabriano, Atletico Ascoli, Azzurra Colli, Marina Forsempronese, San Giustese Grotta Mare, Val di Chienti, Porto Sant'Elpidio. Queste appunto le gare in calendario. Una stagione molto attesa come ci conferma Ivo Panichi intervistato da Manolita Scocco nella giornata della visita del presidente federale Gabriele Gravina ad Ancona. Si è conclusa con una promessa la visita di ieri di Gabriele Gravina alla sede della Federcalcio Marche. Sarei felice di far tornare la nostra nazionale ad Ancona ed onorerò quest'impegno non appena lo stadio del Conero si sarà adeguato ai parametri che le norme internazionali richiedono. Con un gruppo di lavoro così penso che non ci saranno problemi. Molto soddisfatto e non poteva essere diversamente il presidente del comitato regionale della Lega Nazionale di Lettanti Ivo Panichi. Un briefing durato complessivamente quasi tre ore con la presenza anche di rappresentanti istituzionali e di tutti i componenti del consiglio direttivo che è stato importante occasione per fare una sorta di giro di orizzonte su varie tematiche. Il tutto alla vigilia del via ufficiale di una stagione agonistica che appariva piena di incognite dopo il prolungato stop dovuto alla pandemia e che invece parte con buoni presupposti grazie soprattutto alla conferma delle società iscritte con pochissime defezioni e qualche nuovo arrivo. C'è insomma una gran voglia di rimettersi in gioco e sentiamo proprio Ivo Panichi da pochi mesi alla guida del calcio regionale. C'è grande attesa per la ripartenza di quei campionati e la promozione in giù che sono completamente fermi da un anno? Anche più purtroppo, ma noi lo dicevo prima abbiamo avuto intanto come al solito le marche nel DNA hanno il calcio noi siamo i primi in Italia per numero di tesserati rispetto al numero di abitanti e anche questa volta abbiamo avuto questo riscontro, le iscrizioni sono state le stesse di due anni fa quindi tutti hanno risposto presente e quindi per noi il campionato domenica comincia con la coppa d'eccellenza e di promozione e con le altre date che voi già conoscete cioè 12 eccellenze e promozioni di campionati il 26 prima e seconda categoria. Giovane e calcio femminile due realtà da implementare? Sicuramente sì, abbiamo parlato anche di questo stamattina, anche del calcio femminile il Presidente ci ha garantito che anche sul progetto giovani ci sarà vicino e ci darà una grossa mano. Basket è arrivato ieri a Pesaro il nuovo centro americano della Carpegna Prosciutto Tarek Jones, 24 anni, che poco fa è stato presentato alla stampa presso la sala del Consiglio Comunale. Nelle prossime edizioni vi proporremo il servizio, la squadra intanto conclude la Liburnia-Capa d'Abbazia in Istria e domenica amichevole contro Brindisi, mentre prende a via la Supercoppa dove la VL esordirà sabato 18 settembre a Casalecchio contro la vincente del Girone A dove sono impegnate Venezia, Fortitudo Bologna e Reggio Emilia. L'Aristopro Fabriano ha presentato la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di A2 con lo slogan Amore infinito. Ricordiamo che la squadra disputerà le sue partite interne al Palabal di Nelle di Osimo e vediamo ora le previsioni meteo per sabato 4 settembre. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trapi Meteo. L'ivecidimento dell'anticiclone in quota nel corso di sabato sul Mediterraneo centrale possiamo vedere di fatti attorno a questa zona di bassa pressione, dicevamo, ruotare qualche rovescio temporale sparso in movimento dal Tirreno verso il Basso Adriatico ed il versante ionico. Nel dettaglio possiamo osservare quindi una giornata incerta con elevato rischio di qualche fenomeno temporalesco soprattutto sul Basso Tirreno e Appennino centro-meridionale e per quanto riguarda il nord invece bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi ad eccezione di qualche rovescio pomeridiano sull'area alpina. Temperature comunque su tutto lo stivale prettamente estive, massime che usciranno tra i 27 e i 31 gradi. I dettagli maggiori li trovate scaricando l'app gratuita di Trapi Meteo. E concludiamo con le Parolimpiadi di Tokyo dove la pioggia di medaglie conquistate dall'Italia non si arresta e le marche stanno dando il loro contributo. Assunta legnante atleta campana ma da tempo trapiantata nella nostra regione in forza all'Antropos Civitanova ha bissato l'argento del disco anche nel getto del peso conquistando la piazza d'onore dietro la uzbeca Safia Burkanova. Poi è arrivato il bronzo di Ndiaga Dieng di Monte Cassiano, anche lui dell'Antropos nella gara vinta dal britannico Owen Miller i 1500 metri con alle sue spalle il russo Rabotnischi. Era la prima volta tra l'altro che un rappresentante della cittadina del maceratese partecipava ad una competizione a cinque cerchi. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e buon weekend. Grazie per la cortese attenzione e buon weekend.